Buongiorno al dottor Claudio Saracino da Benessere Ipnosi Soluzione e oggi parleremo in questo video di manipolazione e paure. Qual è una delle leve più importanti, più efficaci per manipolare un bambino, un figlio, un popolo, una professione, una nicchia se non la paura? La paura è la leva più grande per manipolare la gente ragazzi. Oggi viviamo nell'ipnosi di massa più che un tempo, più che 50 anni fa. Tu mi dirai perché dottore oggi viviamo più di quanto vivevano i nostri antenati, i nostri genitori 50 anni fa? Perché da 40-50 anni a questa parte esiste un mezzo che fa ipnosi di massa tutti i giorni e che si chiama televisione di massa, ok? Fa ipnosi di massa. Ci condiziona, ci indottrina, ci manipola e soprattutto gioca la televisione e chi sta dietro alla tv, ai social, ai internet sulla famosa leva della paura. Come fa un potere forte a dirti che devi fare per forza quel tipo di percorso? Se non giocando sulla paura, esempio, se non fai questa cosa allora ti succede quest'altra, se ti azzardi, rischi, ti succede quest'altra cosa e così via, ok? Se non prendi questa cosa allora rischi che? Oppure se non avessi fatto quel percorso sarei morto prima. Ma chi te lo dice? Ma chi te lo dice? Chi te lo dice? Sei andato per caso dall'altra parte, hai fatto una controprova, sì o no? No. E allora purtroppo ragazzi viviamo in un'epoca in cui una verità più è urlata, come diceva il famoso filosofo tedesco Schopenhauer, più diventa vera, ok? Più la si ripete, più diventa vera. Più si urla, si sventola ai 4-20, più diventa vera. Per cui non credere alla paura, non credere ai sensi di colpa, non credere a chi cerca di manipolarti, magari vittima di altre vittime, anche in buona fede, ribellati, esci da questa trappola, da questa pianta carnivora e se non sei in grado di farlo da solo usa l'ipnosi. L'ipnosi è questa grande arte e scienza, questa tecnica che ti consente di eliminare tutte quelle paure. Poi se non hai voglia di utilizzare l'ipnosi per vari motivi, allora ascoltami, togli di mezzo la tv spazzatura, le trasmissioni, le app, i social che ti causano paure, trasmissioni che ti seminano nel tuo subcosciente perle di adrenalina, che ti portano a stare triste, depresso, impaurito e più ne ha più ne mette. Togli per sette giorni, un mese, due mesi, la televisione, sintonizzati sulle cose belle e positive della vita, vedi film che ti fanno ridere, trasmissioni leggeri soprattutto la sera prima di andare a nanna, eccetera eccetera e vedrai spuntare la luce nella tua mente, nella tua vita, nel tuo corpo perché ogni immagine che noi produciamo, immaginiamo, vediamo, produce reazioni chimiche nel nostro corpo, che tu ci credo meno, è così. Fai questi esperimenti e poi mi dirai scrivimi tutto, io ti risponderò gratis, ok? Commentami, iscriviti su questo canale YouTube così avrai materiale gratuito, benessere i pronosi soluzioni del dottor Claudio Saracino, visita la mia fanpage i pronosi autiprosi del dottor Claudio Saracino, visita il mio sito www.iprologiassociati.com e al prossimo video, al dottor Claudio Saracino, un bacio, un abbraccio.